E' stata inaugurata la scorsa domenica 9 dicembre la nuova filiale di Altavilla Silentina. Dopo alcuni lavori di restyling, la struttura è stata migliorata sia sotto l'aspetto architettonico che dell'organizzazione interna degli uffici per rendere maggiormente fruibili gli spazi. Per l'occasione erano presenti le autorità laiche e religiose locali, il sindaco di Altavilla Silentina Antonio Marra, il presidente della BCC Buccino Comuni Cilentani Lucio Alfieri e il direttore generale Salvatore Angione. Una bellissima pagina di questo percorso perché è vero, restituiamo il territorio, restituiamo e non è un caso che abbiamo voluto restituire anche questo parco giochi. L'uomo alcune volte nelle proprie attività non è attento, a volte diventa poco attento nella gestione di un'azienda come era successo nella banca, nonostante le difficoltà, ma sono incidenti di percorso che possono capitare. Alcune volte si ci mette di proposito e con qualche ragazzata forse qualcuno ha diverto dei giochi per bambini. Noi abbiamo restituito innanzitutto la fiducia, abbiamo fatto capire che la banca non è un insegna, è una ragione sociale, ma la banca è soprattutto un modo di vivere la comunità e la propria azienda in un modo diverso e noi abbiamo rinsaldato questo rapporto. Penso che è anche questo banca. Questo è il credito cooperativo, il credito cooperativo è fatto proprio di questi gesti che noi dobbiamo essere delle buone aziende di credito, dobbiamo essere efficienti, dare dei servizi, però sarebbe semplicissimo dire che dobbiamo essere solo quello, non avremo nessun carattere distintivo, probabilmente non saremmo manco competitivi. quando invece la comunità riesce a percepire che c'è qualcosa di diverso, di proprio, allora ecco il credito cooperativo diventa competitivo perché diventa qualcosa di proprio, qualcosa da rappresentare all'esterno con orgoglio, qualcosa da vivere e noi questo è quello che vogliamo. Noi vogliamo fare il nostro dovere ed essere parte di un discorso positivo di ottimismo e di crescita delle nostre comunità. oggi penso che abbiamo dato questo messaggio di ottimismo che anche nei nostri territori si possono fare cose belle, utili e cose fatte bene.